Allora, la domanda più frequente ultimamente continua ad essere come fai a farti il video con queste unghie lunghe oppure come fai quando vai in bagno? Ecco qui una simulazione di patata e culo, così magari vi faccio capire, insomma, dai! Allora, le unghie non vanno a intoppare da nessuna parte, lo vedete? Guarda, da nessuna parte! Quando andate in bagno, le unghie non intoppano proprio da nessuna parte! Allora, adesso il dubbio che mi sta avvenendo, che dato che la maggior parte delle ragazze mi dicono vorrei proprio sapere lì dentro come ti ci lavi, allora, insomma, di solito uno si lava, giustamente, si fa il bidet normalmente, poi se ti vuoi lavare dentro la patata esistono questi qui, che sono delle lavandine interne, ecco, così ti ci lavi dentro la patata. Non lo so se voi lì sotto c'avete una galleria che quindi ci infilate alla mano e lavate così, insomma. Bah!